7.30 del mattino e zaino in spalla per 20 studenti e studentesse di Sassari, non per rispettare il regolare orario di lezione, ma per iniziare una vera e propria giornata lavorativa al comando della Polizia Locale. Un'esperienza entusiasmante quella vissuta dai giovani provenienti da diversi istituti scolastici superiori, che per circa una settimana, affiancati dagli agenti della Polizia Locale di Sassari, si sono completamente immersi nelle diverse attività del comando, dal briefing alle rilevazioni degli incidenti al pattugliamento delle spiagge con il nucleo ambientale. Questo è stato possibile grazie al primo campo scuola della Polizia Locale, che ha dato loro questa opportunità. Il nostro obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi alle istituzioni, è quello di rafforzare la cultura delle regole attraverso la conoscenza del mestiere di un agente di Polizia Locale. E poi vorremmo avvicinarli anche spiegando loro quali sono i titoli, ma anche qual è la formazione che permette, una volta diplomati, di accedere ai profili della Polizia Locale. I ragazzi sempre più a contatto con la Polizia Locale per conoscerne le attività e per condividerne gli obiettivi. Questa esperienza mi ha insegnato molto a vedere vari punti di vista, mi piacerebbe portare a casa tantissime esperienze così e spero che ci siano molte più persone che inizieranno a far parte comunque di quest'ottica, che non si fermeranno solo alla superficialità di vedere una gente per strada, ma anche di capire che fanno del bene per la nostra città. È stata una grandissima esperienza, io consiglio a tutti i giovani di provarci il prossimo anno perché insegna tantissime cose.